si può iniziare subito controfare subito scontro con gran bretagna si perchè lui è Irlanda non è Irlanda nel nord perchè Irlanda nel nord lo stai in Irlanda attenzione subito Regno Unico Regno Unico oh bravo Leonard comunque Leonard è l'unico americano lui mi sembra l'inizio Tacoma attenzione attenzione sono a potessi difensiva però quando subisce non sa più riprendersi eh si perchè è un po' fragile diciamo è un po' della famiglia odi questa perchè se odi l'odio odi è un po' più resistente e fermiò molte volte quando incassavano avrei di potenza poi non riesce più a mettersi careggiata attenzione ma se ricordi due dopo i school fare un bersaglio incredibile perchè non solo è illa poi è campione schienare il campione sarebbe attenzione ancora una cosa magnifica eh gli stanno facendo male a questo pavro fan attenzione fare però è una sudura lui è il principe d'inghilterra dunque abbiamo il moigano irlandese oh attenzione la mozza oh attenzione è l'altro che non scherza eh lei va guardando subito al solo eh oh oh questa è brutta questa è brutta attenzione Thompson però Thompson non fare cavolate perchè infatti sei sicuri se vengono usare? eh si lo so usare non bene però eh oh 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 la mette là attenzione oddio ha rischiato solo perchè la scala è messa in un'ambitazione che lì c'è lo spiccolo non so se c'è proprio la punta che che si finca dentro si si ti uccide eh niente se ti fa un back troppo Thompson ecco invece che comunque questi sono match pericolosi dunque ragazzi ecco Thompson ha mi ha messo giù questo questo back troppo eh lasciali su qui scuola che era eh si stavo vedendo Leonard che faceva si si belli belli si infatti siamo un po' distratti i match e il riportretto sono un po' così si un po' così anche perchè uno può prendere una scala e noi ci soffermiamo su su chi prende no? attenzione ora contro l'americano guarda che l'americano fino adesso ha fatto di più eh si si infatti si almeno contro ottima prestazione matti Leonard guarda davvero eh si ottima prestazione attenzione Andrea Andrea dai we want table oh ora Tomson oh abbiamo sia la scala che eh si l'angolo è finito diciamo che la scala non è proprio messa bene però insomma un bel troppo di contro la scala non è la migliore delle cose eh attenzione perché la subisce perché la fa sì però il Tomson è un bello scontro davvero si è un bello scontro si abbiamo visto la civilisation ha vinto Tomson insomma però no mi sembra vinto unico adesso sinceramente attenzione Tomson ha sfruttato su seri su Soho che lignate attenzione leone mi vuole volare attenzione che bella fossa di leone attenzione che bella fossa di leone ma ragazzi questo è il preciò però ottimo ferro incredibile ferro ottimo match fino adesso si si davvero tiriamo acqua il nostro mulino da commentatore no? vedete anche cose belle Oooooooooooooooooooooooooo Tomson spacca il c**o da tutti e con attenzione se la prende con l'unico che non viene dall'europa ma sai però io penso che farà l'arri adesso abbia subito delle delle botte allucinanti eh comunque è riprendersi con manove, a sorpresa l'Inghilterra si tratta in maniera molto dura dunque magari l'america sono un po' Certe volte un po' così, no? Un po' la Leonard, un po' col subito Ci vediamo a Chicago che è la città della lotta, no? Del fight Quindi Attenzione! C'è il fulgato! C'è il tuo segreto! La fossa che... Di quello che era... Il tuo conto in patria Sì, il grande amico Però Farà venire alzato qui Thompson poteva colpire Leonard E comunque non è un Fulgato Anywhere Quindi... No, non è... Ecco perché probabilmente fare la... Thompson non ha... Non ha approfittato della situazione Che c'è la scala là Ragazzi, si schiena sul ringa, eh Oh, attenzione! Oh! Non si è spaccata Ci riprova Bravo, lei ha preso Oh! L'ha preso! Però attenzione, non benissimo Di che fate? Nemmeno una settimana Oh! Che succede? Nel tra fare Leonard, attenzione a un bar Il match è molto... Andiamo, attenzione, Anymela Attenzione, Susanna Gentile, da... Ciao Come sempre Sirene di Manuel e Andrea Buonasera a tutti Volevo ringraziare per aver metto le mail Il pure di più contattare Con questa occasione La mia domanda è molto semplice Sistemele di Giocrazio Riuscire davvero a collaborare Con un match con Tugioso Once in a Dead Contest? Bella domanda Ma secondo me Sono anche... Hanno espresso concetti importanti... Cioè, loro hanno lottato in passato Grande rivale Dai, ok, però... Vorrei anche arrivare in un momento Insomma, di mettere da parte i rancori Oh, una mica! Che cosa da fare? Per fortuna non li ha fatto fermiare Sì, secondo me che riusciranno a collaborare Uno, due, si sa Salute Andrea, riusciranno? Bella domanda Non lo so Sono messi Mi scannano di troppo tempo Per avere una collaborazione così stretta Però questo non è il mio motivo Perché comunque hanno finito Oh, Spear! Spear di Leonard! Dobson l'approfetta! Uno, due! Bravo, Leona, da intervenire Sopostamente era un full Più rubato, eh Più rubato Allora, Dobson fa anche furbo alla fine Oh, attenzione Attenzione c'è il granio di acciaio Se glieli spacca sul cranio No Attenzione! Oh, interrompe lo scherimento in maniera... Piuttosto brutta Sì, sì, molto violenta Eh sì Oh, ancora, attenzione! Cioè, farà il CD20 Oh, sanguina! Sanguina Thompson! Oh, attenzione! Che stava succedendo? Oh, ragazzi che estremo, eh La scorra proprio Beh, c'è veramente bello fino adesso E più che estremo al scorra, diciamo Attenzione, attenzione! Uno! Eh, no, ce la fa bella la... Ma sai, è difficile adesso Però da un momento all'altro Può scudere, sì, questo match Ma sì Attenzione, doppia che può essere ora Vedi che andrà lo scherimento Uno... Thompson? No Thompson rialza Lo gira Lo gira forse... Entra a fare... Non so, ma era a fiducia Attenzione! Avrò già il messo Plessione, è un impedito però da... Forse con lo scherimento Perché tu è molto bravo, Andrea Farrell lo stai distruggendo così Cioè, Farrell si sta divertendo, capito? Ah, ahia, i gradini là, i gradini là Attenzione a fare là Attenzione! What's up change! What's up change! What's up change? Non c'è un altro che to! Uno! Eh, beh, dai! Dai, era lì voi Attenzione! Tre dei di cemmer! Tre dei di cemmer! Eh, sì Uno! Due! Ma incredibile! La martellata inglese! Esatto, mi dà tre tanniche, dai! Per essere più... Precisi! Gli fanno apprezzano, gli fanno apprezzano Perché questo match è un molto violento ragazzi Uno, due, comunque anche l'anno scorso Mi sembra che era stato un match a quattro se non sbaglio Sono tutto ricordi, il tio da bleffa Era un match a quattro dove Sì, 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 è vero Attenzione Attenzione Confusione del ring Ora posso ricoppiare in due Oh l'americana La Norte si trova a casa Sì, infatti Attenzione Oh l'americana di DT Per basta E' un'americana di DT E' un'americana di DT Sì, connesso Oh, attenzione Prova uno schermetto Non ci credo Uno, due Per poco, per poco Guarda, Leonardo Aducinante, attenzione Gratoni che Guarda, è una brutta botta sul col Attenzione, Leonardo Gratoni che intanto vado giù La mazza ha beso da giù Tutti giù Guarda, c'è confusione, attenzione Attenzione Oh, botta di coppia Attenzione Bella manovra E ora si può schermetto Attenzione No No Cappellata di questi Uno Due E tre Leoland diventa campione Come avevo detto L'Underdog L'Underdog Eh, ma ce l'avevi detto Attenzione Ho detto attenzione A Leoland Ho detto attenzione A Leoland Attenzione Sì, ma qua La schiera è campione Sì, infatti La schiera è campione Se l'ha meritato Giustamente Secondo me Se l'ha meritato Sì, però Tomfano Che l'altro Tu Puoi lasciare Cioè, dopo una bella Mossa di coppia Puoi lasci Sì Hai fatto la mossa di coppia Puoi prendere qualcosa Da tua schiera Giustamente Sei un idiota Sì, sei un idiota Sì, sei un pesata, eh Però Proprio Gran bel match Per essere un play show Bel match Bel match E fino a me Anche il sursi Secondo me Sì Anche secondo me Leoland è dunque Il nostro nuovo campione WF, ragazzi Dopo un match Infusifato Dopo un tanto tempo Mi sembra la prima volta Che è dentro Il campione WF Se non vorrei errare Però Mi sembra la prima volta Insomma È tornato Ed è tornato col volto Bella messazione Un match da sette Dai Sì, sì, sì Senza nulla Anche da otto Forse per la cappellata L'otto Sette e mezzo Dai Sette e mezzo Non sta tutto Ragazzi Torniamo tra poco Per il match show Di Extreme Rules Ciao Ciao